Buonasera, mezzanotte 45 in questo momento, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo con il caso che continua a tenere alta la tensione all'interno della maggioranza di governo, il caso del sottosegretario Siri. Mancano due giorni, il Consiglio dei Ministri che dovrebbe vedere la revoca della nomina, anche questa sera Di Maio è andato all'attacco di Siri che è invece difeso da Salvini, anche in occasione dell'ultima inchiesta che lo vede coinvolto, quella per l'acquisto di una palazzina nella Brianza, comprata con un mutuo acceso in una banca di San Marino, un'operazione che secondo la Banca d'Italia aveva qualcosa di sospetto ed è stata appunto segnalata per questo alla Guardia di Finanza. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Andrò in Consiglio dei Ministri assolutamente tranquillo, continua a ritenere che in un paese civile i processi si facciano in tribunale e se uno è colpevole viene condannato da un giudice, non da un giornale. Il Ministro dell'Interno lo dice alla vigilia della riunione del governo di mercoledì, nel corso della quale il caso Siri dovrebbe arrivare a soluzione con la revoca della sua nomina al sottosegretario perché indagato per corruzione. Intanto Di Maio ribadisce, Siri va messo in panchina, getta ombre sul governo e gli sconsiglierei di arrivare al voto nel Consiglio dei Ministri. Se non si dimette prima andremo al voto e il movimento ha la maggioranza, poi dal giorno dopo non saremo noi a chiedere una crisi di governo. Sul Premier invece si ripetono gli attacchi della Lega che lo accusa di atteggiamento sbilanciato verso i pentastellati che premono per le dimissioni. Ma Conte spiega non succederà nulla di clamoroso, non ci saranno sorprese sul caso Siri e si dice sicuro che non si arriverà alla Conta. Sibillino è il braccio destro di Salvini Giorgetti che dice ne so poco o nulla, è evidente che ci sia un po' di clima persecutorio, prima di mercoledì qualcosa succederà e allora sarà chiaro a tutti come andrà a finire. Il caso però si arricchisce di un'altra inchiesta. La procura di Milano vuole fare luce sull'acquisto di una palazzina intestata alla figlia del sottosegretario fatta con un mutuo di 585 mila euro concesso dalla banca di San Marino. Al momento non ci sono indagati. Lo avete visto, il Ministro dell'Interno Salvini questa sera è arrivato a Napoli per andare all'ospedale dove è ricoverata la bambina che venerdì è rimasta ferita in uno scontro a fuoco, in un conflitto a fuoco che ha coinvolto un pregiudicato. Una vicenda tremenda, questa bambina è ancora in condizioni gravissime, la prognosi non viene sciolta anche se c'è qualche segnale di miglioramento, ma vediamo tutti i dettagli. Davanti alle telecamere i medici che hanno in cura Noemi ammettono di non aver mai visto una ferita così vasta come quella della bimba di 4 anni, una ferita da guerra la definiscono. La prognosi non può essere ancora sciolta, preoccupare ancora una gravissima insufficienza respiratoria ma anche il rischio di infezioni. Qualche segnale rassicurante però c'è, non ci sono più emorragie, Noemi nelle ultime ore non ha avuto bisogno di nuove trasfusioni. A tre giorni dalla sparatoria stasera all'ospedale Santo Bono è arrivato anche il ministro dell'interno Matteo Salvini che ha incontrato i genitori della bambina e i medici. Qui potrebbe arrivare anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una visita in forma strettamente privata, fanno sapere dal Quirinale. Mentre continua la caccia all'uomo che venerdì scorso voleva uccidere un pregiudicato e invece ha colpito anche Noemi e sua nonna. Le indagini puntano soprattutto su quei video delle telecamere piazzate nella zona della sparatoria. Secondo gli investigatori il sicario potrebbe non essere una persona esperta di armi e sembra impacciato a poca dimistichezza con la pistola. Forse il raid potrebbe non essere una vendetta di camorra. Nelle immagini l'uomo è sempre solo e la malavita organizzata non agisce così. E poi è stato scoperto che il pregiudicato, rimasto gravemente ferito, ha dei debiti molto consistenti, circa un milione di euro. Andiamo adesso a occuparci del Medio Oriente con la mediazione dell'Egitto e del Qatar. E dell'Egitto e del Qatar si è arrivati ad una tregua tra Israele e Gaza da 24 ore. Praticamente non vengono sparati razzi da una parte e non c'è reazione dall'altra. Queste ultime fiammate di guerra hanno portato alla morte i 31 palestinesi e 4 israeliani. La mediazione ha anche sbruccato dei fondi che dal Qatar devono arrivare a Gaza e ha concesso nuove possibilità di pesca per chi abita nella striscia di Gaza. Ma da entrambe le parti ci sono le fazioni più estremiste che premono perché si torni al conflitto. La tregua dovrebbe reggere se lo augurano tutti ma Israele ed il suo premier Netanyahu non mollano e ripetono che l'operazione a Gaza non è ancora finita. Ora però, aggiunge il primo ministro, è l'ora della pazienza e della ragionevolezza. Hamas e i jihad islami che intanto festeggiano minacciano nuove forme di pressione ma per adesso da più di 20 ore nel sud di Israele e lungo la striscia non si muore. Dopo 720 razzi lanciati contro lo Stato ebraico, 320 raid aeree israeliani, 31 vittime palestinesi e 4 vittime israeliane con la mediazione di Egitto, Qatar e ONU sono stati sbloccati. I fondi inviati alla striscia di Gaza da Doha sono stati allentati i controlli e checkpoint e sono state fatte nuove concessioni da parte israeliana sulle zone di pesca di fronte alla striscia. Molte, anzitutto, dalla destra più radicale israeliana. Le critiche invece al governo e ai vertici militari sia per l'efficacia della tregua che per i danni provocati con i raid dell'avizione, troppo pochi, secondo il deputato estremista Bezalel Smodrich, che ha dichiarato lo scontro a Gaza, sarebbe dovuto finire con 700 palestinesi uccisi, uno per ogni missile lanciato domenica contro Israele. Proteste e festeggiamenti. In queste ore a Istanbul sono in corso manifestazioni di diverso ordine perché da una parte c'è chi festeggia, dall'altra c'è chi sta scendendo in strada perché la Commissione elettorale ha accolto alla fine uno dei tanti ricorsi, due dei tanti ricorsi che sono stati presentati dal partito di Erdogan perché si debba andare di nuovo al voto per la poltrona di sindaco della città, elezione che è stata vinta da Ekrem Imamoglu del partito repubblicano. Lo scorso 31 marzo aveva sconfitto, seppur di poco, l'ex premier, nonché fedelissimo, di Erdogan, il dirim. Dopo 25 anni la città è passata per una volta all'opposizione, la città governata da sempre, prima da Erdogan e poi dal suo stesso partito, ma il Presidente aveva fatto capire che non si sarebbe arreso tanto facilmente. Quindi dopo molti ricorsi si tornerà al voto il prossimo 23 di giugno. In queste ore difficili e di tensione Imamoglu ha parlato ai suoi sostenitori e ha detto questo è un tradimento ma noi manterremo la calma, torneremo al voto, vinceremo di nuovo. C'è da dire che la vittoria era stata veramente risicata, poco più di 13 mila i voti di differenza. Adesso a Parigi perché si è saputo solamente questa sera di quello che è accaduto ieri ad un funzionario italiano di Palazzo Chigi che lavorava per i servizi segreti, e si trovava a Parigi per un corso di lingua dal 3 del mese. Ecco come vedete anche dal sito di Lepoin è stato trovato morto con una ferita profonda al mento non molto lontano dall'albergo dove alloggiava. Secondo le fonti diplomatiche appunto si trovava per un corso di lingua. L'ambasciata italiana ha parlato di un decesso per cause naturali ma ancora non c'è, conferma bisognerà aspettare i risultati della autopsia. Parliamo adesso invece di cose liete perché il Regno Unito ha sospeso per qualche ora l'attenzione, ha spostato l'attenzione dalla Brexit al Palazzo Reale di Windsor. è arrivato finalmente il nuovo Royal Baby, è nato questa mattina alle 5.26, figlio del principe Harry e della moglie americana Meghan Markle. Del piccolo si sa solamente che sta bene, pesa 3,3 kg. Il nome non è stato ancora deciso o quantomeno non è stato neanche comunicato perché non è stato neanche detto dove sia nato, se in ospedale o in casa. Di certo al momento della nascita rappresenta il principe che come vedete in questo filmato, molto emozionato, ha dato l'annuncio della nascita del figlio ma ci sono stati anche gli annunci tradizionali come questo in questo momento in onda, i valletti che posizionano sul cavalletto l'annuncio di Palazzo Reale dell'arrivo del nuovo piccolo Windsor che ovviamente è passato anche sui social. E adesso andiamo a vedere che cosa è successo questa sera nella partita Milan-Bologna, 35esima di campionato ha vinto il Milan. Per tutto il primo tempo la partita è equilibrata con il sinistro di Orsolini al 14esimo a togliere tranquillità al Milan, reduce da un ritiro punitivo e dalle polemiche innescate da Bacayoko. E proprio il francese finisce per riaccenderle, ritardando l'ingresso in campo al posto dell'infurtonato Biglia. A questo punto l'addio al Milan è inevitabile. Al 37esimo il match si capovolge in pochi secondi con José Mauri che trova in area Suso. Il controllo perfetto dello Spagnolo è diagonale in gol per l'1-0 del Milan. Copione simile nel secondo tempo, la formazione di casa rischia il pareggio sul destro di Pulgar deviato da Donnarumma per poi trovare il gol del raddoppio al 67esimo. Da fuori area il destro potente è di Pachetà ma sulla respinta di Skorupski e Borini a centrare la porta rosso-blu. Le sicurezze di Gattuso vacillano appena 5 minuti dopo con il gol dell'ex. imparabile il tiro al volo di destro innescato da Sansone. Rosto neri in dieci per tutto l'ultimo quarto d'ora per l'espulsione di Pachetà ma tornati in corsa per un posto in Champions League. Mezzanotte 55 era l'ultimo servizio, ci fermiamo qui come sempre all'informazione. Torna domani mattina alle 7, arrivederci, buonanotte. Grazie a tutti!